Oral-B presenta Pro 6000 Oltre a 6 modalità di spazzolamento, è dotato di connettività Bluetooth. Si connette al tuo smartphone, così puoi monitorare i tuoi progressi e ricevere consigli in tempo reale e personalizzare la tua igiene orale quotidiana. Fra le tante altre funzioni, Pro 6000 è dotato di modalità pulizia quotidiana più triplo sensore di pressione, modalità protezione gengive, modalità per denti sensibili, modalità sbiancante, Smart Guide Wireless, modalità pulizia profonda. Pro 6000 rimuove fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti.